Intervistiamo a Ramauro sui risultati di queste elezioni studentesche, come sono andate? Sono andati abbastanza amareggiati sui risultati, ho sentito ovviamente qualcosa a me, soprattutto le comunicazioni, l'assidismo ha favorito un certo punto di articolo, ma siamo quasi lo stesso. Quindi chi ha vinto, quali sono stati i vincitori? Io spero di avere tutto per l'intervista che non è stata realizzata con te, però volevo, avevo già messo in breve i vincitori, sarebbe stata un'attualità, un compagno e... Ultimo banco? Un compagno, un compagno, un compagno, un compagno, un compagno, un compagno, e in effetti lo sconda veramente così, perché ho visto un'attualità uno a uno, con sei giorni su un compagno, un compagno, un compagno, e poi invece il senato, in effetti l'affettificio, però che era una questione di domenica, questo sommato, e per quanto riguarda il nostro gruppo, forse abbiamo reso qualcosa in meno, rispetto a due anni fa, però non stava di rendere soddisfatti per il nostro gruppo in Europa. Capito, ma rispetto agli anni scorsi è andato un po' peggio, oppure come ti è sembrato? Sì, sì, sicuramente, certamente era un po' certe menzioni, soprattutto per fare la terminazione, però tutto sopra, può capitare, anche ai più forti che hanno un ricordo. Ho capito, almeno. Ma adesso le prossime elezioni, quando ci saranno? Tra due anni. Tra due anni. Un po' che vuole fare, voglio dire, a lui che mi sta interessando, è un permesso che io d'incorso, che non è buona votare. Vabbè, non sono potuto venire a votare, ho avuto dei problemi a risponare. Non si parla, cazzo. Ah, vabbè. Carro Gama, sono un ammiratore per il tuo sito, come pensate. Eh, vabbè. Vuoi aggiungere qualche altra cosa? Sì, che voglio consigliare tutti i dati che hanno votato, noi possiamo stare tranquilli, noi lavoriamo per essere amici, per siamo un gruppo di amici, cioè stiamo organizzando per fare quelle cose impostate, quindi sicuramente spero che si possa rambiare qualcosa, naturalmente e mi rivolgo soprattutto a chi sta accettando a tutti i dati di amministrazione, che per la versione di gas, che ovviamente è una cosa. e poi vediamo, si parla del 2009, di passare con queste amici, che è un pochettissimo che si può fare, di cercare di mandare sempre con i miei studenti, tutto qua. Vabbè. Volevo aiutare tutti i miei amici, che sono in merito, che si conoscono, forse siamo a posto di dare. Ok, grazie, grazie.